Averraggio completato. Unità nella seconda ondata. Avviare l'assalto al palazzo di NAPU e attivare i protocolli di scopita. Eliminare tutte le prove nemiche. Il trasporto di NAPU deve arrivare intanto al palazzo. Il trasporto di NAPU. Corrita 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 di NAPU. Sono efficaci Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie Il trasporto ha raggiunto il primo waypoint Danni entro i livelli di guardia Grazie 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 a tutti. 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 Finalmente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.